Dieci persone portano a compimento un'operazione come quella e infatti poi piano piano i soldi sono venuti fuori dei nuovi elementi. Questi che l'onorevole Gras diceva rispetto a Corsida che tutta una serie di nuovi uomini in realtà esistevano, erano venuti sotto il cassetto per non far sapere tutta una serie di cose. Allora, penso per non essere troppo lungo di ripetere queste cose, io ho uno dei limiti